Salut a tutti amici e felice anno nuovo! Questo periodo per molti di noi ha un valore simbolico molto forte, una sorta di nuovo inizio. Si cerca di fare un po' il punto delle nostre vite, di capire come migliorare in futuro. Il 2020, lo sappiamo, è stato un anno durissimo per tutti noi. Il Covid ha impegnato ogni nostro pensiero, vorremmo soltanto lasciarcelo alle spalle. Però, i problemi che ci siamo lasciati nel 2019 non è che siano spariti nel nulla, sono ancora lì. Il riscaldamento globale, l'inquinamento, gli incendi e di conseguenza tutte le manifestazioni, i Friday for Future, non devono finire nel dimenticatoio. Ah, lo so, non c'è niente di meglio di un po' di disastri ambientali per iniziare con positività il nuovo anno. No, scherzi a parte ragazzi, i problemi ci sono, ma la cosa buona è che non è mai troppo tardi per invertire la rotta. A dire il vero, fra un poco sarà troppo tardi, però non è ancora troppo tardi. Ed è per questo che oggi ho deciso di fare un video un po' diverso dal solito, per cercare di capire insieme che cosa si può fare al riguardo. Enjoy! Tutti noi siamo un po' alla ricerca di soluzioni semplici, semplici da attuare ma anche semplici da comprendere. Plastica cattiva, carta buona, sì questo, no quell'altro. Il problema è che nel mondo reale questi assoluti non esistono. Le tematiche ambientali sono sempre molto complesse e ogni cosa va sempre valutata caso per caso. Potremmo fare tante cose per salvaguardare il nostro pianeta. Dalle nostre scelte politiche, ai nostri investimenti economici, alle nostre abitudini alimentari. Oggi però voglio parlarvi di un solo proposito, uno soltanto da aggiungere alle nostre vite, che per me è il più importante di tutti in assoluto. Dobbiamo sprecare meno. So che magari qualcuno di voi avrà già storto il naso, il mio non è un consiglio originale, lo so. Il punto è che non lo facciamo, l'abbiamo sentito ovunque, ma non lo facciamo. Dobbiamo sprecare meno da tutti i punti di vista. Dal cibo che buttiamo, all'acqua del rubinetto, ai nostri consumi energetici, ai vestiti che compriamo. Dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Ho visto persone tenere riscaldamento in aria condizionata così a palla da passare l'inverno in t-shirt e l'estate col maglioncino. Ma la mia non vuole essere soltanto una critica agli altri, perché anch'io spreco tantissimo. Siamo figli della cultura dello spreco e contrastare questa tendenza è difficile, me ne rendo conto. Quello che vi chiedo quest'anno è di interrogarvi sui vostri consumi. Chiedetevi ogni volta che state per acquistare qualcosa, se quel qualcosa vi serve, se porta valore alla vostra vita. E se siete onesti scoprirete che la maggior parte delle volte la risposta è no, non vi serve davvero. È importante ricordare che l'impatto zero non esiste, ogni essere vivente ha un suo impatto sull'ambiente. Noi umani non facciamo eccezione. L'importante è cercare di ridurre questo impatto per quanto possibile. Decidere poi cosa è spreco e cosa non lo è è qualcosa di estremamente personale. Ad esempio, facendo questo genere di considerazioni, mi sono resa conto che, per me, lo smalto alle unghie non è qualcosa di importante. Per carità, mi piace, però non è che mi renda particolarmente felice averlo alle mani. L'ultimo smalto l'ho comprato due anni fa per il matrimonio di mio cugino e non penso che ne comprerò in futuro. Se a voi però la manicure piace, fatela! Se è qualcosa che vi rilassa o se esprimete così la vostra creatività, sfogatevi, compratevi tutti gli smalti del mondo. Il punto è imparare a distinguere ciò di cui abbiamo veramente bisogno da ciò che ci insegnano a ritenere necessario. Madonna, questa frase è troppo bella, aspetta che la ridico. Il punto è imparare a distinguere ciò di cui abbiamo bisogno da ciò che ci insegnano a ritenere necessario. I famosi must have, quelle cose che si devono possedere. Ma must have di che? Chi l'ha detto? Dove sta scritto? Ed il problema non è solo la plastica. Anzi, mi azzardo a dire che ci sono problemi molto più impellenti della plastica. Per esempio, l'aumento di gas serra in atmosfera. Il movimento plastic free è sicuramente valido, ma è semplicistico. Ed è un concetto che fa presa proprio perché è semplice. Ci dà una direzione chiara di ciò che è etico e ciò che non lo è. Fra l'altro, per noi è molto facile comprendere quali siano i danni della plastica. Siamo inondati di fotografie di delfini o tartarughe marine soffocate dalle buste di plastica. Sono immagini strazianti che però ci danno un messaggio molto diretto. Più difficile invece è far comprendere il fenomeno dell'acidificazione degli oceani, ad esempio. Ed infatti, quante volte ne avete sentito parlare? Quando compriamo qualcosa, non dobbiamo pensare soltanto alla sua vita, nella discarica, ma a tutta la filiera produttiva, le risorse che sono servite per produrlo e trasportarlo. Tempo fa, su Instagram, Dario Bresanini scrisse un post provocatorio che parlava della plastica che ricopre i broccoli in alcuni supermercati. Quella plastica che viene facilmente accusata di essere l'ennesimo imballaggio inutile in realtà è stata studiata per permettere un passaggio regolato di ossigeno e di ride carbonica e quindi di rallentare la marciascienza del broccolo. Questo vuol dire che quel sottile strato di plastica ad una visione più attenta si rivela paradossalmente essere la scelta più sostenibile perché evita uno spreco alimentare e tutto ciò che c'è dietro acqua, fertilizzanti, carburante per le macchine agricole, carburante per il trasporto ed ancora i costi di smaltimento. Come vi dicevo non esistono assoluti, è tutto molto più complesso di come appare. Questo non toglie però che la maggior parte degli imballaggi sia largamente evitabile. Attenzione poi all'ambientalismo da Pinterest. Queste case immacolate con le dispense a vista e tutti i prodotti sfusi perfettamente ordinati in barattoli di vetro identici. Con la crescente preoccupazione verso le tematiche ambientali si è creata anche un po' una moda. Per carità meglio quella di moda che altre, però ho l'impressione che i movimenti zero plastica, zero sprechi siano diventati anche un po' un gusto estetico più che una vera e propria lotta allo spreco. Va benissimo il barattolone di vetro per sistemare i vostri prodotti sfusi. Ancora meglio però è riutilizzare le bottiglie di salsa di pomodoro, ad esempio. O ancora, vi serve davvero una cannuccia d'acciaio per essere sostenibili? Per carità, meglio quella che mille di plastica. Ma ancora meglio è evitare a monte di bere da una cannuccia. O no? Questo discorso può sembrare banale, ma lo faccio per mettere in luce quali sono i nostri meccanismi mentali sbagliati. Ad esempio, di quante borse di cotone biologico abbiamo bisogno per fare la spesa? Ne compriamo 5.000, ce le danno in omaggio, alle fiere, siamo inondati da queste buste. Se ci facciamo i conti però, queste borse sono ecologiche soltanto se vengono usate più e più volte per un lungo periodo di tempo. Se no, è più sostenibile la plastica, eh? Questo per dirvi che non basta scegliere il bambù al posto della plastica, come non basta preferire l'energia rinnovabile. Questo perché non sono soltanto le nostre risorse a non essere sostenibili, è il nostro stile di vita a non essere sostenibile. Fra l'altro l'impressione che si è passato il concetto che la sostenibilità sia qualcosa per ricchi. Ed in parte è vero, non tutti hanno la possibilità di comprare maioncini biodinamici di lana rigenerata da pecore bio che si fanno tosare soltanto se glielo chiedi per favore. Però tutti possiamo scegliere di fare il lavatrice a pieno carico o di cercare di prendere l'autobus invece che la macchina. Questo qua è il giocattolo preferito del mio cane, è una treccia di calzini vecchi e vi giuro che lei lo adora. Le ho lavati, ve lo garantisco. Le confezioni di plastica della pasta? Mia madre mi ci metteva la merenda quando andavo a scuola e plastica per alimenti la si può riutilizzare. Certo non sarà particolarmente bella da vedere, però vi assicuro che è ecologica. Voglio ribadirlo, io non sono perfetta, questo è un percorso lungo, io ho ancora tanto da migliorare, spreco ancora tanto, però penso che la coerenza sia un concetto abbastanza sopravvalutato. Molto meglio un miliardo di persone imperfette che cercano di fare il proprio meglio e di sprecare meno che una manciata di pochi eletti che vivono una vita perfettamente sostenibile. C'è qualcuno di voi adesso che potrebbe farmi notare una cosa. Date alla mano, tutti questi accorgimenti che possiamo attuare nella nostra vita privata hanno un peso minore se paragonate ad azioni sistemiche e a decisioni prese a livello politico e internazionale. E purtroppo avrebbe ragione, è così. Ma una cosa non esclude l'altra, non dobbiamo scegliere se batterci a livello politico o chiudere il rubinetto quando ci laviamo i denti. Vederle come cose antitetiche è una cavolata, sono semplicemente due facce della stessa medaglia. È importante lavorare sul nostro stile di vita, innanzitutto perché il contributo del singolo è piccolo ma comunque non è trascurabile, soprattutto se questi singoli sono tanti. E poi perché per potersi battere per dei cambiamenti a livello sistemico bisogna prima assorbire una certa cultura e questa cultura la si ottiene lavorando su se stessi, sui propri consumi, sui propri sprechi. Un'ultima cosa, ma forse la più importante, la nostra cultura e il nostro sistema di valori influenza la politica ed influenza l'industria. Sotto elezioni non c'era un singolo partito che non promettesse una maggiore attenzione all'ambiente, promettesse. E via via che cresce il dibattito sulle tematiche ambientali, le aziende diventano sempre più green, fanno attenzione al packaging e alle proprie emissioni di CO2, in generale alla sostenibilità dei propri prodotti. In alcuni casi purtroppo si tratta di fuffa, sono specchietti per le allodole. Abbiamo visto insieme come essere sostenibili e sembrare sostenibili siano concetti diversi. Ma tutta questa attenzione fino a pochi anni fa semplicemente non c'era. E più dimostriamo di dare importanza all'ambiente, più cerchiamo di essere consumatori consapevoli, lettori informati, più incisivo sarà questo cambio di rotta. Per quanto mi riguarda però, il primo passo resta sempre e comunque sprecare di meno. Spero veramente che questa chiacchierata con voi vi porti a farvi riflettere sull'importanza delle nostre scelte. Interrogatevi sui piccoli gesti, sulle piccole azioni che compiamo ogni giorno. Parlate di queste tematiche ai vostri conoscenti, condividete questo video se volete, solleviamo alla questione quante più volte possibile. Questa volta vorrei tanto che nei commenti si creasse un dibattito, vorrei sapere cosa ne pensate di quello che ho detto, se siete d'accordo e se non lo siete, perché. Oppure scrivetemi quali sono i vostri di propositi sul fronte della sostenibilità, oppure quali sono i vostri accorgimenti per sprecare meno. In descrizione vi ho lasciato anche qualche link che penso possa esservi utile. e non mi resta che augurarvi buon anno. Alla prossima!